Partito? Pronti? Pronti? In cima al tetto Si Eh ma vale comunque adesso In cima al tetto VIO Ciao Ciao Ho sempre uno dietro nel muro come prima Che tende a quello nel coso Ok? Oh Tattini Dai Eh si può adesso No no si perché ti fragliano Che erano del quadro Dai in fondo Sì Guarda io resta Poi non fate di arrivare a vostre Nel corridoio ma non subito E io ho il giorno di fotografia 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 E io ho E io ho il giorno di fotografia E io ho il nome E mi divertivo E io ho il jam E io ho il RS E io mi muo si entrava E io ho ilلم Cosa stutto? dall'angolo o dal tetto? no dal tetto l'ho scivato adesso provo a dargli un'acciata veloce lo ha eliminato 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 si.. pibe... si.. in caos Grazie. 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 Sì, vai, vai. E... caricatura? Quasi finita quella lì. C'è? Beh, ce n'è un po', però... Dicino. C'è. Pronto di da io. Hai. E... Grazie. Grazie. Grazie.